Investimenti zen, ovvero l'arte del sotrarre per avere di più. Cosa vuol dire questo? Beh, è quello che i grandi investitori hanno sempre saputo e sempre applicato, ma il signor Rossi no, ed è per questo che gli altri guadagnano e il signor Rossi purtroppo affanno. Ben trovati, io sono Giacomo e sono qua per darti delle pillole di educazione finanziaria. Non ti bastano? Vai in descrizione. E iscriviti a Welcome, che è un corso assolutamente gratuito per imparare a investire. Grazie anche se vorrai iscriverti a questo canale, se trovi questi contenuti interessanti. Per te non costa nulla, per noi è un gesto che fa veramente una grande differenza e ti ringrazio in anteprima. Come dicevo, l'arte dello zen applicata agli investimenti. Noi pensiamo che investire sia questione di fare, ok? Scegliere i titoli migliori, scegliere le previsioni migliori, scegliere il momento migliore in cui andare a comprare o a vendere un determinato strumento finanziario e così via, ok? Una serie di scelte attive che portano a un risultato finale che si spera essere soddisfacente. In verità, i grandi investitori, che non sono i gestori di fondi, perché quelli non sono in realtà delle persone il cui obiettivo è massimizzare il rendimento dei clienti, gestori di fondi sono persone che massimizzano le commissioni che il fondo drena attraverso una serie di tecniche di conformismo finanziario, del fare come tutti gli altri, così più o meno i clienti non se ne vanno, perché se vanno via da noi ottengono gli stessi risultati e così via. No, io sto parlando di persone che hanno fatto i soldi investendo soprattutto il loro patrimonio attraverso fondi edge, fondi chiusi e compagnia cantando. Bene, queste persone, compreso anche il defunto Charlie Munger e Warren Buffett, hanno candidamente ammesso quello che la maggior parte delle persone fatica a comprendere. Investire è l'arte del togliere. Togliere che cosa? Eliminare i grandi errori. I grandi investitori hanno come primo obiettivo quello di non sbagliare e quindi saper dire no. Ad esempio, togliere le mode, non seguire le mode, ok? Non comprare a tutti i costi, non movimentare troppo il portafoglio, non sforzarsi di prevedere i mercati. Charlie Munger diceva, etichettava questi comportamenti con l'espressione cercare di evitare di fare delle cose sciocche. Perché se tu ribalti il problema e cominci a dire cosa devo evitare per quello che resta è la cosa positiva. Ora, io non sono qua a dirti che il portafoglio non vada movimentato mai, però sono qua a dirti che non devi fare tutta una serie di cose. Guardarlo tutti i giorni, l'abbiamo detto tantissime volte, perché più lo guardi più va in ansia. Farti dominare dalle emozioni, farti prendere dell'euforia a comperare, non avere pazienza. Ecco, queste sono tutte cose che devi togliere. Perché investire è un processo, un processo lento, un processo noioso, ma che porta i risultati. E ti dirò ancora di più, che tanto più una strategia è banale, tanto più efficace. Il problema è che noi non vogliamo togliere pepe alla nostra strategia. Noi vorremmo aggiungerlo, perché siamo, diciamo, naturalmente portati, incentivati a seguire quei consulenti finanziari, quei gestori che ci affascinano con delle cose più fantasiose, più esotiche. Il consulente che ti dice, fai le cose semplici, investi nell'azionario mondiale, sposta di pochi pesi, spostiamo poco il portafoglio, tende a non essere seguito, perché uno dice, ma santo cielo, dice delle cose banali. Ma io questa volta voglio lasciarti con una riflessione. Se non sei convinto che togliere sia meglio, rispondi a questa domanda, in segreto, nella tua cameretta. Cosa è importante per te? Una strategia bella, elegante? Ho un qualcosa che funzioni e in base a questo fai la tua scelta. Spero di esserti stato utile. Grazie del like se questo video ti è piaciuto o accetto anche un dislike se il video assolutamente non ti ha smosso la coscienza. Noi ci vediamo martedì prossimo con una nuova puntata.